Sì dai, sono dei materassi in memory, quindi anche se ci dormono poco, quando dormono riposano bene. Sono pronti per dare una mano alla collettività. Sì, è sempre un bene fare queste cose. Sette materassi nuovi di Zecca per consentire un riposo come si deve a chi nel turno di notte garantisce la copertura di un servizio, quello dell'emergenza a urgenza, fondamentale per tutta la comunità. Siamo alla Croce Bianca di Arezzo che ha ricevuto nelle scorse ore questa donazione da parte di Orchidea Preziosi, Enzo Scartoni, e di Dormi da Re, Nico Pericchi. Ci sono delle azioni come quella di stamani che potrebbero sembrare dei piccoli gesti. In realtà sono quei gesti per noi molto importanti, se non altro perché l'affermazione che noi facciamo un lavoro a servizio, un'attività a servizio della comunità che viene apprezzata anche con questi gesti. Abbiamo deciso di fare questa donazione che per me la ritengo molto importante, che poi anche ora ho notato che c'è sempre di meno gente che fa volontariato per la Croce Bianca oppure anche gli altri. È stata anche l'occasione dopo il rinnovo dell'organigramma per la Croce Bianca di Arezzo di ricordare l'importanza della vicinanza della città in termini soprattutto di volontari per la Croce Bianca e tutte le associazioni di pubblica assistenza. Ad oggi sono 70 e volontari in forza all'associazione ne servirebbero quasi il doppio, dice il presidente Urbano Dini, vorrei ricordare alla cittadinanza che quando si compone il 112 è da qui che parte l'ambulanza. Sì, dopo la stagione del Covid abbiamo avuto una perdita importante di volontari ed è sempre più difficile trovare delle persone che si avvicinano a noi. Credo che bisogna fare più comunicazione soprattutto tra i giovani, dare la possibilità di una formazione attenta e quindi di coinvolgimento in questa attività a servizio degli altri. Allora, insomma, far uscire anche queste belle storie che spesso e volentieri ci avete permesso di raccontare con i vostri volontari. Sì, questo sì. Io ho 30 anni che faccio il volontario presso questa associazione e faccio un ringraziamento a Enzo che è sempre vicino perché non posso dire niente. Ma con questo gesto spero che si avvicini anche altri imprenditori che ci siano una mano nella comunità perché è importante.